Dunque, uno degli algoritmi più generici che ci permettono di calcolare un determinante di una matrice quadrata è, senz'altro, la regola di Laplace, o anche lo sviluppo del determinante secondo Laplace. Allora, questa regola di Laplace è uno degli algoritmi più utilizzati. Noi abbiamo visto in un'altra lezione che esiste un algoritmo particolare, che quell'algoritmo tra l'altro vale solo per matrici 3x3 ed era la regola di Sarrus. Abbiamo visto era una combinazione di prodotti su righe, su diagonali, no, e così via. Però quella regola è limitata solo alle matrici 3x3. Ora, la regola di Laplace è una regola che vale per qualunque matrice di qualunque ordine, cioè di una matrice n per n. Quindi di una matrice, ad esempio una matrice A, appartenente allo spazio delle matrici di ordine n a coefficienti reali, ma anche a coefficienti complessi, se vogliamo. Ebbene, come funziona questa regola di Laplace? Allora, consideriamo quindi una matrice. Supponiamo di avere una matrice A, che abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Una matrice A si estrinseca attraverso una tabella fatta di righe e colonne, quindi A11, il componente generico, A1N, no, vedete? Poi abbiamo altri componenti, AN1, ANN, questi qui rappresentano i componenti della nostra matrice quadrata. Quando si parla di determinanti, quindi, vi ricordo che le nostre matrici devono essere quadrate, devono avere n righe ed n colonne, vedete? Perché il determinante, siccome è un gioco di permutazioni che devono essere tutte dello stesso numero di fattori, è chiaro, è evidente che il numero di righe della matrice deve essere uguale al numero delle colonne della matrice. Allora, come funziona questo sviluppo di Laplace? Allora, tutto si basa sulla scelta di una riga o di una colonna della matrice. Quindi voi, quando siete in presenza di una matrice quadrata e volete calcolare il determinante di questa matrice quadrata, dovete scegliere rispetto a quale colonna o rispetto a quale riga volete sviluppare il determinante. Quindi supponiamo noi, per semplicità, senza perdita di generalità, no, come direbbero i matematici, di scegliere una riga. Ad esempio, di scegliere la riga K. La riga K. Ebbene, il determinante secondo Laplace si ottiene attraverso la seguente formula, cioè il determinante della nostra matrice quadrata A si ottiene dalla seguente formula, e cioè somma per i che va da 1 ad n. Vedete, questa è una somma che coinvolge n termini. Se la matrice, ad esempio, fosse una matrice 5 per 5, n, ad esempio, sarebbe 5. Se la matrice fosse una matrice 2 per 2, allora la somma andrebbe da 1 a 2. Quindi saremmo in presenza di 2 termini, e così via. Qual è il termine generico che si trova in questa sommatoria? Il termine generico è il seguente. C'è anzitutto un meno 1 elevato alla K più I, dove K, vedete, è la riga su cui stiamo operando. Mentre I, vedete, è un contatore, no? È un indice che varia, chiaramente, no? Su cui la somma, no? Si esplicita. Meno 1 alla K più I, che moltiplica il termine A K I, quindi il termine della riga K Iesimo, per un altro oggetto speciale C di K I. Che cos'è questa formula? Allora, cerchiamo anzitutto di analizzare chi sono questi, eh, questi oggetti. Allora, anzitutto partiamo da quello più semplice, no? A K I è l'elemento che stiamo sommando di volta in volta sulla riga K Esima. Vedete che l'indice di riga è costante, è sempre K, no? La somma, vedete, non, eh, non è su K, ma è su I. Quindi nella prima, eh, nel primo termine avremo K, ad esempio, se siamo sulla riga, supponiamo di essere sulla riga 3. Allora, il primo termine avrà indice di riga 3 e indice di colonna 1. Poi il secondo termine avrà sempre indice di riga 3, però indice di colonna 2, no? E così via, no? K è costante. Quindi questo è l'elemento generico della nostra riga. Meno 1 alla K più I è sostanzialmente un indicatore di segno. Allora, questo indicatore di segno vale 1 quando K più I è pari. Vale meno 1 quando K più I è dispari, naturalmente. Quindi questo mi dice sostanzialmente che se mi trovo sulla posizione, sull'elemento A1,1, vedete, 1 più 1 è 2, questo si trova nella posizione 0, quindi questo meno 1 alla K più I diventa 1. Se mi trovo invece sull'elemento, ad esempio, A3,2, 3 più 2 fa 5, meno 1 alla 5 fa meno 1, quindi quel segno chiaramente diventa un meno. E così via. Quindi questi termini saranno alternati da un segno più e da un segno meno, ad esempio. L'ultimo oggetto, che diciamo è quello più complesso da esprimere, è questo qui. Questo qui si chiama cofattore relativo al termine AKI o anche complemento algebrico. Che cos'è questo complemento algebrico? Il complemento algebrico è sostanzialmente un sottodeterminante, cioè se io, quindi complemento algebrico. Allora, supponiamo di avere la seguente matrice. Su questa matrice, ad esempio, supponiamo di avere degli elementi, quindi abbiamo l'elemento A1,1, poi qui da qualche parte ci sarà l'elemento a1l e poi qui c'è l'elemento ad esempio a1n. Poi qui ci sarà la riga ak1, elemento akl e così via, elemento akn. Fino all'ultimo, quindi qui c'è أن1, qui c'è a ml e qui c'è a nn. Vedete? Questa è una matrice quadrata in cui abbiamo messo in evidenza, ad esempio, una riga K ed una colonna L. Allora, io ora voglio calcolare il complemento algebrico KL, cioè il complemento algebrico relativo a questo particolare componente. Allora, il complemento algebrico è sostanzialmente il sottodeterminante, o anche il minore si chiama, minore, il sottodeterminante di questa matrice che si ottiene eliminando la colonna L, questa qui, e la riga K. Cioè, io elimino tutta questa colonna, elimino questa riga e vado ad estrarre tutti i componenti che sono rimasti, no, che non sono stati barrati. Allora, quindi, io ottengo un determinante, che adesso andiamo ad estrinsecare qui, un determinante che avrà un numero di elementi minore di questo, cioè perché io ho tolto la colonna L e la riga K. Quindi, quale sarà questo sottodeterminante? Sarà A11 fino al termine precedente a questo qui, che chiaramente sarebbe A1L, vedete? 1L meno 1. Poi qui devo bypassare questo qui, quindi qui avremo A1L più 1, fino ad A1N, vedete? Poi qui, chiaramente, dovrò bypassare questa riga, quindi qui ci sarà l'elemento A1K meno 1, 1, qui ci sarà A1K meno 1, L meno 1, poi bypasso questo qui, quindi qui ci sarà A1K più 1, L più 1, fino all'elemento A1N, vedete? Quindi, il metodo di Laplace è un metodo, se vogliamo, ricorsivo, cioè per calcolare un determinante di ordine N, ad esempio, devo calcolare N determinanti di ordine N meno 1, perché questi complementi algebrici nella somma di Laplace ne abbiamo N da calcolare. Quindi, se vogliamo, ci semplifica il calcolo, però aumenta il numero di determinanti da calcolare. Quindi voi, ad esempio, potete provare a fare un programma, ad esempio, che calcola questi determinanti, facendo una funzione ricorsiva. Ad esempio, giusto per impratichirci un attimino con questo complemento algebrico, supponiamo di avere una matrice 3x3. Quindi, se io ho una matrice 3x3, A31, A32, A33. Adesso, io voglio calcolare, ad esempio, voglio determinare il complemento algebrico C33. Allora, che cos'è il complemento algebrico di questo elemento qui? Allora, sostanzialmente è il determinante, il minore, relativo alla sottomatrice che si ottiene eliminando questa riga e questa colonna. Quindi io qui devo calcolare, sostanzialmente, il determinante di A11, A12, A21, A22. E che cos'è il complemento algebrico, ad esempio, C22? Avete capito il gioco? Bisogna eliminare la seconda colonna e la seconda riga e rimane A11, A13, A31, A33. Vedete? Cioè, l'indice 2 qui è scomparso. Qui era scomparso l'indice 3. Ebbene, una volta visto, quindi, il gioco del complemento algebrico, per chiudere la lezione proviamo a fare un calcolo di un determinante di una matrice in cui ci sono dei numeri, giusto per impratichirci. Quindi, ad esempio, supponiamo di voler calcolare il determinante di questa matrice. Nella matrice 1, 0, meno 1, 2, 3, 1, 4, 1, 2. Allora, sviluppiamolo secondo Laplace. Quindi usiamo la regola di Laplace. Quale riga scegliamo qui? Allora, siccome la scelta è arbitraria, io vi consiglio di scegliere righe e colonne dove ci sono degli zeri. Ad esempio, tra queste righe io sceglierei la prima riga, perché, vedete, c'è uno 0, quindi lo 0. Siccome nella formula qui compare il prodotto dell'elemento generico sulla riga, se questo elemento è uno 0 mi annulla il termine, vedete qui. Allora, quindi, sostanzialmente, allora, che cosa bisogna fare? Bisogna fare 1 per meno 1 alla 1 più 1 per il complemento algebrico di riga e colonne 1. Più 0, adesso scriviamo tutto passaggio per passaggio, poi una volta che sarete più degli esperti, cioè alla fine di questa lezione, eviterete di esprimere tutto. Quindi qui abbiamo 0 per meno 1 alla 1 più 2 per c1,2, più meno 1 per meno 1 alla 1 più 3 per c1,3. Ovviamente, evitate di confondere questo meno 1, che è il termine, è l'elemento di riga 1 e colonna 3, con il segno, l'oggetto, l'indicatore di segno. Allora, adesso, chiaramente, possiamo esprimere questi complementi algebrici per quello che in realtà sono. Allora, qui abbiamo meno 1 alla 1 più 1, che fa 1, quindi 1 per 1 fa 1, quindi qui, sostanzialmente, dobbiamo calcolare il complemento algebrico C1,1. Ma che cos'è C1,1? È il sottodeterminante che si ottiene eliminando questa riga 1 e questa colonna 1. Quindi, sostanzialmente, è 2, 3, 4, 1. Più questo possiamo eliminarlo. Vedete la semplicità quando scegliamo righe e colonne in cui ci sono degli zeli. E qui abbiamo 1 più 3, 4, quindi questo è meno 1 per 1, quindi qui ci sarà un segno meno. Qui ci sarà, sostanzialmente, un segno meno. Il sottodeterminante che si ottiene togliendo la riga 1 e la colonna 3. Vedete? Qui, chiaramente, c'è un errore. Torniamo indietro, perché il cofattore 1,1 era sostanzialmente quello che si otteneva eliminando questa riga e questa colonna. Quindi qui abbiamo 3, 1, 1, 2, meno. Adesso bisogna eliminare la prima riga e la terza colonna. Quindi qui abbiamo 2, 3, 4, 1. A questo punto, questi due determinanti 1 per 1 e 2 per 2 sono facili da calcolare. Questo qui è 3 per 2, meno 1 per 1. Quindi è 6, meno 2, meno 2 per 1, meno 4 per 3. E quindi qui abbiamo 4, meno, meno 10. Quindi questo è il risultato di aver applicato, ad esempio, il calcolo della regola di Laplace ad un esempio concreto. Allora, l'ultima osservazione è questa qui. Il termine di segno, riscriviamo brevemente la regola di Laplace, e cioè che il determinante della matrice A, diciamo, di ordine n, lo mettiamo qui, della matrice A di ordine n, è dato dalla sommatoria per I, che va da 1 ad n, di meno 1. Qui, chiaramente, il determinante mettiamo rispetto alla riga k, quindi meno 1 alla I più k per A, K, I per il complemento algebrico K, I. Allora, è evidente che noi possiamo, se la matrice A con n è una matrice n per n, quindi qui c'è A1 1, A1 n, A n 1, A n 1, A n n, noi possiamo sostituire al nostro, questo è un trucco più che una regola, al nostro termine di segno, al nostro indicatore di segno, possiamo far coincidere una sorta di matrice dei segni, cioè la matrice dei segni è quella matrice che è fatta sostanzialmente così. Quindi, supponiamo di calcolarci una matrice dei segni 4x4, ad esempio, no? Una matrice 4x4. La matrice dei segni 4x4 si ottiene come una scacchiera di più e meno, vedete? Una scacchiera di più e meno, di modo che abbiamo già l'idea di quello che sarà il valore di questo indicatore di segno, perché qui, perché abbiamo questo più in questa posizione, ma questo è l'indice 1 di riga e 1 di colonne, quindi la somma qui fa 1. Questo meno qui viene dal fatto che qui stiamo facendo 1 più 4, quindi 5. Quindi qui meno 1 alla 1 più 4, meno 1 alla 5 è un meno, vedete? Quindi noi possiamo automaticamente pensare di mappare questa matrice dei segni, far coincidere ciascun segno a ciascuno di questi elementi, vedete? Quindi se noi ci trascriviamo la matrice dei segni, possiamo subito associare il segno poi nel termine di Laplace. Però questo è un trucco più che una regola. Ebbene, detto questo, io direi che possiamo fermarci con questo algoritmo di Laplace. Vi invito a fare degli esercizi, perché questo è un algoritmo che gli dà un po' di impegno, ma una volta che avrete fatto un numero cospicuo di esercizi sarà chiaramente molto semplice da padroneggiare.